Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a shoppare delle offerte che mi hanno lasciato un attimino perplesso, diciamo così. Infatti sono uscite queste due nuove skin di Feng, che di base sono la stessa identica skin, con le stesse identiche icone, reazioni, eccetera, ma cambiano soltanto i colori. Se ci fate caso, l'icona sembra uguale, ma ha comunque i colori diversi, cioè una appunto con le tonità del blu e l'altra con quelle rosse. E ok, shoppandone una ovviamente non si abbassa il prezzo dell'altra e viceversa chiaramente. Credo sia fatta apposta perché insomma non ci stanno tanti matti in giro come me che si shoppano tutte le skin del gioco e quindi uno si sceglie male il suo colore preferito. Però insomma, una volta ne shoppi una, potevano fare una sorta di sconto shoppando l'altra e invece no, ci fanno andare a spendere 300 gemme anche per una semplice color correction. Prima di tutto però andiamo a riscattare i vari premi dell'offerta, del pacchetto abbiamo shoppato ovviamente di Melody. Mi raccomando ragazzuali, recuperatevi anche i video dei giorni scorsi perché abbiamo fatto il gioco per un'ora con Melody che è stato devastante, trovato ovviamente il video sul canale. E ovviamente abbiamo fatto anche il video dove la maxavamo, la provavamo, eccetera, eccetera. Quindi recuperatevi i video sul canale. Anche perché in queste vacanze di Pasqua ne sto caricando anche due di video ogni tanto al giorno. Quindi anche questa mattina dovrebbe essere uscito un altro video. Insomma, recuperatevi perché sul canale stanno uscendo una marea dei contenuti. E lasciate like per supportare tutta questa pubblicazione e tutto questo sforzo su Brawl. Vi ricordo dunque anche il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scato ogni po' lo dovete reinserire. Anche in tutti gli altri giochi Supercell. E adesso direi di andare a riscattare un po' di cosettine. Per esempio i crediti, abbiamo anche i punti energia perché abbiamo il doppio premio giornaliero. Direi di andare comunque a shoppare anche quest'offerta per prenderci le monete, perché le monete ragazzi non sono mai abbastanza. Quindi l'idea di andarci a prendere anche questa qui. A quest'altra con un valore per 4 che facciamo? La prendiamo? La prendiamo. Presi anche le 3200 monete a 4,99€. Siamo quasi a 100.000, quindi direi che a breve faremo anche il mega video dove le spegniamo tutte 100.000. Tra l'altro l'offerta si è buggata così, va bene. Andiamo a prendere prima quello rosso, quello blu? Fatemi sapere nei commenti se ne avete shoppato uno o tutti e due. Oppure se non li avete shoppati, fatemi sapere nei commenti quale avreste shoppato. Io sinceramente se ne avessi shoppato solo uno, probabilmente avrei shoppato quello blu. Ma semplicemente perché per una questione di colori che mi piacciono di più, sì, cioè nel senso, non lo so. Comunque, prendiamo quello blu ragazzuoli, dopo ovviamente shoppiamo anche l'altro e ci mancherebbe altro. Comunque come vedete non ci sono sconti di alcun tipo. Serena qui accanto a me mi fa sapere che ha shoppato solo quello rosso, quindi abbiamo shoppato... Vabbè, ci completiamo amore, ci completiamo. Vedete l'amore, va bene. Ho un problema nel trovare Feng, invece l'abbiamo trovato. Let's go, abbiamo trovato Feng. Eccolo qui, lo andiamo a selezionare. Lo vorrei utilizzare anche in ranked, però il problema rag è che Feng se lo prendono un bot e lo bannano un bot. Quindi direi di non rischiare e tentare magari semplicemente un football. E vediamo un po' quello che succede. No, 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 gli equipaggiamenti cambiamo un attimo. Magari mettiamo che abbiamo un gadget extra. Direi di mettere calci furiosi a questo punto. Va bene, va bene, va bene, vediamo, vediamo. È un po' che non uso Feng nella scalata normale di Brawl Stars, ma prima o poi dobbiamo anche scalare. Tra l'altro ragazzi, in questi ultimi giorni di stagione dei rank, preparatevi perché voglio fare degli episodi belli cattivi appunto sulla scalata. Quindi preparatevi, preparatevi. Magari domani potrebbe uscire per Pasqua un mega episodio. Non lo so, voi pensate a supportare Brawl che poi i contenuti ci penso io. Mi raccomando ragazzi, un bel like, ma quelli che a me sono dei bot ragazzi. Non ve lo vorrei dire, ma dovrebbero essere dei bot. Dovrebbero, dovrebbero però non lo so. Io assolutamente, va bene, perfetto ragazzi. È stato molto divertente. Direi che ci facciamo un'altra partita con questa skin perché insomma questa è stata abbastanza ridicola. Ma io non ho capito perché si beccano le lobby con i bot anche a 400 e passa trofei. Cioè per carità non è che stiamo parlando di trofei altissimi che dici oh mio Dio, madonna, bravissimo G. Però insomma è abbastanza strano, è abbastanza strano. Molto strano. Comunque vabbè. Andiamo a riscattare perché ripeto, le monete non si buttano mai. Sempre in footbrawl direi, sempre in footbrawl. Però raga, mi sta venendo il dubbio. Quale abilità stellare si usa con Feng? Ma fatemi sapere nei commenti. Io rimetto questa qui, però fatemi sapere nei commenti perché io ce l'avevo l'altra. Però effettivamente andandola a rileggere anche quest'altra potrebbe essere buona. Non lo so. Comunque, ecco, ho chiesto agli avversari forti. Della c'è stata una leggenda. Ma noi puntiamo ad essere delle leggende e coi random tra l'altro eh. Io vorrei ricordarla questa cosa che noi stiamo scalando praticamente. Olli random. Comunque è molto bella la skin, regà, perché quando tira il calcio tira la palla da... Oh mio Dio. Da baseball. Molto bello, raga. Cioè, la skin è fighissima. Infatti, raga, per 149 gemme ci sta. Quello che critico io è che sostanzialmente ne hanno fatte due uguali, identiche. E se ne scioppi una, l'altra non ti viene un po' spuntata. Secondo me ci stava, ragazzi. Ci stava tutto. Cioè, allora è costato semplicemente come color correction. Quindi voglio dire... No, raga, dovevo... Mamma mia, dovevo difendere... Ok. Mamma mia. Mamma mia. Perché per un attimo, raga, stavo per fare la pollata a non difendere la porta, ma... Ad andare a sinistra, eh. Ok. Oh mio Dio, stava per segnare, eh. Ai, 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 ai. Ai... Oh, regà, l'ambra è cattivissima. Infatti era quella che stava a leggende. Ahia, madonna. Allora, vediamo. Perfetto, presa. No, no, raga! Sono one shot, quindi devo recuperare vita. Devo recuperare per forza vita. Allora, l'ambra la vorrei andare a spillare, sinceramente. Ok. No, raga. Dai, ragazzi, cioè... Ma quindi non era... Non era sopravvisto nessuno dei miei. Non era sopravvisto nessuno dei miei. Ok. Ok, c'ho l'overdrive, ragazzi. C'ho l'overdrive con la ulti. Attenzione. Attenzione. Dunque, mamma mia. Fang, ragazzi, è veramente... Veramente intutile. Cioè, può essere utile veramente in qualsiasi situazione, raga. Mamma mia. Mamma mia, raga. Se c'ha l'overdrive è immortale, indistruttibile, infinito. Il problema, raga, adesso è che... A parte che ho sprecato un gadget. Non so se avete fatto caso, ma... Mentre stavo spammando colpi, spammando cose, ho... Inavvertitamente sprecato un gadget. Ok. No, raga! Pensavo di uccidere almeno la Maisie. Mannaggia, se gli avessi ucciso almeno la Maisie, secondo me i miei compagni potevano fare la giocata della vita, eh. Peccato. Eh, raga, sta... No! Di pochissimo, raga, non sono riuscito a prendere la palla. Di veramente poco non sono riuscito a prenderla e a pararla. Peccato. Vabbè, raga, detto questo, ci andiamo a shoppare anche l'altra versione. Quindi la versione rossa. 300 gemme che ci salutano così. Vabbè, ok. 298 gemme, ok, va bene. Ovviamente sempre col codice creatore GGY, non ti tutto attaccato, mi raccomando. Cambiamo un po' modalità, che ci sta? Oddio, vabbè, ragazzi. In realtà non è che abbiamo proprio delle modalità incredibili per Fang, eh. A nientamento. Vabbè, continuiamo in footbrawl, ragazzi. Continuiamo in footbrawl, almeno ci divertiamo. Ok, noi siamo a tre miti e di là c'è... Ah, però c'è Melody, ragazzi. Sì, oh mio Dio, c'è Melody. Cato io al centro, cato io al centro. C'è Melody, ragazzi. Attenzione. Melody. Ragazzi, non avete visto il gioco per un'ora con Melody? Non avete idea di quello che è successo, ma in footbrawler, ragazzi, attualmente è il brawler più forte di tutti in footbrawl, ragazzi. Ragazzi, in footbrawl è qualcosa di... Di pazzesco. No, Ash! Dai, mamma mia. Ragazzi, è davvero imbarazzante, eh. Attualmente. Ok. Dai, 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 ragazzi. Praticamente one shot lo spike. Ah, l'avevano rallentati. Perché erano rallentati? Da che erano rallentati, ragazzi? Ragazzi, ho giocato l'ulti lo spike che manco me l'avevo accorto. Ah, non me pare, però. Ok, non credo riesco a fermarmi, Melody. E ci andiamo a portare a casa questa vittoria. Vabbè, dai, alla fine abbiamo recuperato un po' la sconfitta di prima. Abbiamo giocato anche abbastanza bene. Eravamo anche gli sfavoriti, quindi non male. Peng piano piano si avvicina al rank 20. Mamma mia. Alla soglia. Ormai si chiamano soglie, ragazzi. Effettivamente ormai si chiamano soglie. Ma ci proviamo a fare una classificata? Dove proviamo a prendere Feng, effettivamente. Ma tentiamola, tentiamola. Poi ripeto, l'episodio sulle classificate lo facciamo serio dopo. Cioè dopo, insomma, che uscire ai prossimi giorni. In generale l'episodio speciale pasquale. Però, però ragazzi, adesso cerchiamo di prenderci appunto Feng. No, ragazzi. No, ragazzi. Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male. No, 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 io Feng, io Feng. No, dai, non me lo puoi rubare. Non me lo puoi rubare. Dove sta Feng? È mitico, mi pare. Dove, dov'è? Mio, mio, Feng è mio. Ragazzi, Feng è mio. Per favore. No, bro, non me lo rubare. Per favore, non me lo rubare. No, dai, però. Non mi puoi rubare così, Feng. Raga, tento, tento un boh. Però tento di chiedergli lo scambio. Ti prego, dammi, dammi Feng. Per favore. Dammi Feng, per favore, dammi Feng, per favore. Dai, non ci posso credere, ragazzi. Eh, vabbè, ci ho creduto, eh. Per un attimo ci ho creduto. Eh, vabbè, ci accontenteremo di boh. Dai, almeno dimmi che c'è una delle nuove skin. Dimmi che c'è una delle nuove skin. Neanche. Vabbè, c'è quella che è anche più figa di quelle nuove. Però, mannaggia, la miseria, mannaggia. Cioè, me lo potevi lasciare. Guarda, mo' magari si mette pure mid, eh. Mo' si mette pure mid con Feng. È certo, è certo, è certo. Provina totalmente. Il game. Come io che vado addosso a una Shelly, maledizione. Ma la Shelly, quando è arrivata a linea Cespugli? C'ha l'equipaggiamento per forza. Maledizione, ragazzi. Cioè, ci sono andato troppo, troppo convinto. Tra l'altro potevo usare effettivamente quello dei Cespugli, eh. Tra l'altro, l'altra abilità stellare, mi sa. Mi sa che conveniva, ragazzi. Mi sa che conveniva l'altra stellare. Leon, ragazzi, non mi sembra troppo del mestiere, se posso essere sincero. Mi fenga abbastanza bravo, invece, per fortuna. Però, raga, ripeto, il Leon non mi sembra troppo del mestiere. Dai, raga, cioè, ma a Bibi gli basta correre e prende e evita tutto. O quasi. Allora, fermi tutti. Qua c'è sta sia Bibi che Angelo. Ok. Ok, raga, io le mine le metto sempre lì. Ok. Vai, 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 Peng. Tanto là c'è stanno le mie... No, raga, dai, ma anche Angelo! No! 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 Ma Leon si è fatto bombare dalla Bibi One Shot! Ma perché non gli ha sparato? Ma che non aveva più colpi? Ma quando gli ha sprecati tutti i colpi? Ma quando gli ha sprecati tutti i colpi, Leon? Non ci posso... Sì, è andato a pushare di là, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Madonna, qui ci siamo proprio fatti fregare come dei polli, eh. Qua ci siamo fatti fregare proprio come dei polli, incredibile. Cioè, l'avevamo dominata come cosa, eh. Io penso e spero se la stia prendendo con il Leon, perché se no... Mi offendo, eh. Signor Peng, non si faccia prendere troppo da là. No, ragazzi. Non mi è entrata la hit importantissima per caricare... Ok. Il problema delle mine di boh, regà, è che c'è. Ormai non esplodono più. Vabbè, ok, abbiamo fatto usare un gadget ad Angelo, però... Ok. Niente, ragazzi. C'è Angelo può camminare tranquillamente sulle mimine... E non... Farle esplodere, ma senza subire il colpo, praticamente. Oh, vabbè. Vabbè. Va bene. Eh, raga, il Feng ha totalmente tiltato il Feng. Cioè, sta solo pushando a caso il Feng ormai. Il Feng sta solamente pushando a caso ormai. Sì, sì, no. Guardate, ormai il Feng ha totalmente lasciato stare. Cioè, ha praticamente deciso di abbandonare la partita il Feng. Prende, push a caso. Vediamo, vediamo se faccio esplodere qualcosa. Niente. No, no, no. Riprendi. Non ci posso credere, raga. Ma non ci posso credere, ragazzi. Dai, ma Shelly, ma che cos'è? Ma che cos'è, Shelly? Ma che cos'è, ragazzi? Ma che cos'è con quella ulti? Madre mia, ragazzi. Madre mia. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, raga. Dai, dai, dai. Feng scappa. Dimmi che ce la fai. Se prego. Bravissimo, bravissimo. Oh mio Dio, raga. Ho sprecato pure le mine. Non volevo usare le mine. Usare a tutti i miei la ulti. Bravo, Feng. Va bene. Madonna mia. Ok, l'abbiamo riaperta. Ok, l'abbiamo riaperta. Però, raga, il Feng deve ricominciare a giocare normale. Stta partita l'ha giocata tutta totalmente triggerato che andava avanti e basta. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi. Vediamo un pochettino. Eh, mo fai le faccette felici, sì. Vabbè. Allora. Io stavolta, raga, mi fisto qui e controllo da qua. Ecco, però il problema è che poi devono riuscire loro a controllare il centro se io sto qui così. Ok. Ok. Ma anche Angelo in questa... Ma dai, raga, ma è mezz'ora che sfammo lì i tardi di bo... Sì, che sfiga. Il Feng è stato ittato sette volte dalla bolla di cosa. Di Bibi, raga, poveraccio. Vabbè. Bibi c'ha tipo... Le mine l'ho messa abbastanza male. Eh, ok. Ok. Almeno, raga, qui non si possono più muovere. Che le metto anche lì dietro. E basta. No, 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 ragazzi. No, però, no, però. Ma perché... Ma che hanno ripusciato tutti e due a caso? Io ero troppo concentrato sulle mine. Ho fatto tutto un lavoro di distruzione. Ho fatto tutto un lavoro di distruzione dei cespugli, signori. Ho fatto tutto un lavoro di distruzione dei cespugli che è andato perso. Loro hanno comunque continuato a pushare così. È andata, raga. Totalmente è andata. Totalmente è andata, ragazzi. Totalmente è andata. Ma per forza, cioè. Ma per forza, ragazzi. Ho pure hittato con le mine, raga. Ho pure hittato con le mine. Incredibile. Eh, sta là dietro quello che c'ha più gemme. Eh, ma c'è sta tanto shelly con la ult, eh, raga. Mannaggia la miseria. Che comunque a livello di team ce la potevamo giocare, eh. Non eravamo messi così male. Ce la potevamo assolutamente giocare. Anzi, ce la potevamo portare tranquillamente a casa. Vabbè, quindi non si prospetta una cosa facile da fare, prossimamente. Ma noi ci proveremo. Detto questo, ragazzi, mi raccomando. Vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un bel mi piace per supportare questa tipologia di video. Per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuali. Ciao, ragazzuali.